Si è disputato e concluso stamattina il primo concorso regionale di enogastronomia degli istituti alberghieri. Con l'istituto alberghieri abbiamo fatto un ragionamento condiviso e credo anche brillante nei contenuti. Bravilore oggi l'hanno dimostrato, noi ci abbiamo messo del nostro perché il nostro mestiere è quello proprio di cercare di valorizzare i prodotti delle nostre aziende. Credo che questa iniziativa lo faccia pieno con l'entusiasmo delle otto squadre partecipanti perché l'obiettivo era quello oggi di valorizzare perché ce n'è sempre bisogno anche di parlarne, di parlare al grande pubblico, di parlare al mondo della restaurazione. Otto le scuole rappresentate, Alghero, Arzachena, Desulo, Oristano, Tortolì, Bosa, Budoni e Siniscola. Ognuna con quattro allievi tutti impegnati a cucinare, con diverse preparazioni, l'agnello IGP di Sardegna. Non poteva mancare l'agnello IGP di Sardegna che è una tradizione millenaria, fa parte della dieta mediterranea. Vogliamo valorizzarlo sempre di più e continuare a mangiare questo prodotto che si produce con tanto sacrificio nelle nostre aziende, seguendo un ferro disciplinare e non vogliamo mangiare i prodotti realizzati in laboratorio che non hanno a che vedere con la nostra storia e la nostra tradizione. Alla fine la giuria ha premiato la scuola di Tortolì, seguita nell'ordine da Alghero e Arzachena. Un grande successo che ha confermato ancora una volta come l'azione intrapresa da Coldiretti, tesa a promuovere i prodotti locali e le pietanze della tradizione, stia viaggiando a vele spiegate. Siamo qui oggi perché il connubio cucina-vino e quindi enogastronomia è ormai un qualcosa di collaudato. Offriremo il finale, l'aperitivo, quindi un brindisi con la vernaccia.